Nuovo appuntamento con Dica 33. Il medico risponde, do il benvenuto al dottor Paolo Cascavilla, medico di medicina generale, oggi in veste di responsabile dell'area tabacologia della Simefac. Buongiorno dottor Cascavilla. Buongiorno. La ringrazio perché questi nostri appuntamenti settimanali stanno avendo un ottimo riscontro, quindi i nostri telespettatori sono contenti di avere ogni settimana un medico che dà loro dei consigli e delle dritte importanti da un punto di vista medico e della salute. Oggi e nella prossima puntata, dottor Cascavilla, parleremo del fumo, nemico dell'uomo e dell'ambiente. Io partirei proprio dallo slogan lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Salute in occasione della Giornata Mondiale Senza Fumo, che ha scelto come tema Ma abbiamo bisogno di cibo, non di tabacco. Perché, dottor Cascavilla? Perché il fumo provoca fame nel mondo. Perché ogni sigaretta fumata sprega risorse preziose per il pianeta da cui dipende la nostra esistenza. La coltura di tabacco provoca molta distruzione di terre utili e ogni sigaretta fumata è una spiga di grano strappata alla vocazione nativa della terra, che è quella di produrre cibo per gli esseri umani. Quindi bene ha fatto l'OMS a puntare, a mettere il dito su questa piaga. La macchina produttrice del tabacco non semina grano, ma veleni. Non miete spighe, ma miete vittime nel mondo. E quindi bene ha fatto, dicevo, l'OMS a mettere il dito sulla piaga, perché ci accorgiamo che la ferita è molto più profonda. Non abbiamo ancora compreso il potenziale devastante del fumo sull'ambiente e anche oltre. Pensiamo un po' che il fumo si accanisce anche su tutti quegli elementi di sviluppo dell'ONU. La famosa agenda 2030, 17 tasselli di un grande mosaico, interferisce negativamente con tutti questi tasselli, non solo quelli relativi alla salute o all'ambiente, ma anche a quelli, a tutte le emergenze sociali contemplate. Quindi bisogna veramente prendere coscienza di quello che è il fumo. Ma in fondo a questo pozzo c'è una cosa bella. E qual è? Che chiunque smette di fumare interrompe la filiera tossica del fumo. Chiunque smette di fumare compie un'opera universale, nel senso che contribuisce a liberare l'umanità da questo flagello e promuove l'integrità dell'ambiente e favorisce la realizzazione di tutti gli obiettivi che l'ONU si è proposta. Si fa del bene a se stesso, ma fa del bene anche agli altri. E' importante, appunto, come diceva, la scelta di questo tema. Abbiamo bisogno di cibo, non di tabacco. Perché magari non sempre pensiamo a quanto importante sia la coltivazione di grano, anziché quello di tabacco. Perché con il grano si sfamano le popolazioni. Ci sfamiamo. Ha parlato molto chiaramente, dottor Cascavilla, dei danni all'ambiente. Adesso parliamo di salute umana. I rischi per se stessi e per gli altri del fumo. Dobbiamo immaginare la catena del fumo come un treno guidata dalla locomotiva che è la nicotina, che si porta perché è la chiave strategica di tutto il sistema che determina la dipendenza. Questa locomotiva si porta dietro un lungo convoglio di vagoni pieni di tossici. E dove vanno a finire questi tossici? Nel nostro corpo. Chi è il proprietario legittimo del nostro corpo? Chi è il padrone di casa? È una casa che noi abitiamo per tutta la nostra esistenza. Quindi dovremmo tenerci, avere manutenzione, curarla. Averne cura. Averne cura. Il fumo è strettamente legato all'insorgenza di tumori. Tanto è vero che il primo passo per contrastare l'avanzata dei tumori è quella di smettere di fumare. Ma se noi pensiamo che il tumore al polmone che riempie le chirurgie toraciche, se la maggior parte della gente smettesse di fumare, diverrebbe una malattia rara. Non solo, ma molti posti letto delle cardiologie o delle chirurgie vascolari si svuoterebbero se si smettesse di fumare. Perché il fumo va a colpire, come bersaglio, anche organi vitali, quali cuore e polmoni. Dunque è estremamente necessario invertire la rotta per il nostro benessere. Si è sempre in tempo per invertire questa rotta, dottor Cascavilla? Si è sempre in tempo per smettere di fumare? Certo, si è sempre in tempo. E' chiaro che bisogna decidersi oggi meglio che domani. Spesso si sente parlare di fumo passivo. Magari appunto il bambino che respira il fumo passivo perché la mamma o il papà fumano. Però ecco, che cosa si intende per fumo di terza mano? E' diverso da quello passivo? Sì, è diverso. Il fumo passivo è quello che si inala, possiamo dire, stando gomito a gomito con un familiare che fuma. Ok. Ed è molto nocivo. Il fumo di terza mano è il fumo invisibile. Quello che si annida nelle nostre case. Quello che coabita nelle nostre case è il fumo che il soggetto fumatore si porta addosso, non solo sugli abiti, sui capelli, ma anche nella propria casa. Il fumo che si deposita nelle suppellettili della casa, tende, tappeti, indumenti, mobili e che permane per molto tempo. Questo fumo è molto dannoso per i bambini. Ogni bambino ha diritto a vivere in un ambiente familiare e domestico, igienicamente sano. Ripeto, lo voglio inviare ai genitori. Ogni bambino ha diritto a vivere nella sua casa in un ambiente igienicamente sano. Ci sono bambini neonati che vengono a contatto con l'odore del fumo prima di assaporare il latte della madre. E qui si evince tutto il ruolo fondamentale del pediatra di famiglia anche, che deve responsabilizzare i genitori. Senza mezzi termini, senza aver paura di essere anche un po' forti con le parole. E anche il medico di famiglia, perché il medico di famiglia interpreta e traduce nella sua espressione massima questa definizione quando si impegna in questo settore. Perché? Perché il fumo è una malattia familiare. E quindi noi andiamo a tutelare tutti i membri della stessa famiglia. Il fumo di terza mano viene spesso a contatto con le persone più sensibili. L'anello debole. I bambini, abbiamo detto. Che poi toccano, specialmente quelli piccoli, rischiano di ingerire e di inalare questo fumo di terza mano che contiene prodotti tossici e voglio ricordarlo, anche prodotti cancerogeni. Quindi il fumo passivo è quello che si inala, il fumo di terza mano è quello che rimane annidato, come giustamente diceva lei, sui suppellettili, sulle tende, sui tappeti, sugli indumenti del fumatore. Quindi no al fumo di terza mano, no al fumo passivo. E permane anche per molto tempo. Anche nell'abitacolo della macchina una cosa sottovalutata. Perché molti genitori... Ma io non fumo in casa. Però nella macchina sì. Nella macchina poi ci entrano anche i bambini. Anche l'abitacolo diventa un involucro che protegge, per così dire, questi detriti, questi elementi tossici e li mantiene lì racchiusi senza possibilità di sfogo all'esterno. Dottor Cascavilla, andiamo proprio, facciamo centro con l'ultima domanda. E dobbiamo fare proprio centro, ma so che lei ci riuscirà. Quali sono i mezzi più efficaci per smettere di fumare e quali progetti avete in merito per contrastare questa, chiamiamola proprio così, tossicodipendenza? Certo. E quindi se è una tossicodipendenza, la via principale è quella di rivolgersi al medico. Noi, come Assimefac, ricordo che l'Assimefac è una società scientifica che si occupa di educazione alla popolazione, di prevenzione ai tumori e anche di progetti di ricerca. Quindi io ringrazio l'Assimefac per la lungimiranza e l'innovazione, il coraggio, l'intuito di questa innovazione, di introdurre questa disciplina all'interno dei propri progetti. perché è una cosa che oggi manca, fondamentale. Quindi come Assimefac, con i vertici dell'Assimefac, stiamo progettando delle iniziative molto interessanti. Una è quella diretta ai giovani medici, cioè mettere i giovani medici in grado di utilizzare uno strumento utilissimo. Cinque minuti per salvare vite umane. In cosa consiste? Dovrebbe diventare prassi comune di ogni medico, in ogni ambulatorio, saper effettuare il cosiddetto consiglio motivazionale breve. Non richiede molto tempo. Occorre verificare nel paziente e identificare quelle chiavi motivazionali, che sono poi personali, ognuno ha la sua per smettere di fumare e lavorare su quelle chiavi. Poi si può integrare anche con delle medicine antifumo molto utili. Quest'integrazione rende la probabilità di successo molto, molto maggiore. Quindi la via principale per smettere di fumare è rivolgersi a un medico. Chi si rivolge a un medico ha quattro volte in più la possibilità di smettere di fumare e questa possibilità aumenta in modo direttamente proporzionale all'impegno del medico. Chi non ha questa possibilità di rivolgersi ad esempio a un centro antifumo oppure a un medico competente, ma noi vogliamo rendere competenti tutti i medici giovani, può sempre, sempre nella logica del farsi aiutare, rivolgersi all'Istituto Superiore di Sanità. Smettidifumare.iss, sta per Istituto Superiore di Sanità.it, che mette a disposizione anche un manuale molto interessante che il paziente può scaricarsi e in modo, tra virgolette, autonomo decidersi per questa grande iniziativa per la sua vita e per quella della sua famiglia. Non dimentichiamo che smettere di fumare per qualsiasi fumatore è la seconda data di nascita. Molto bello questo messaggio che ha mandato, che ha inviato Dottor Cascavilla. Sono certa che con le sue parole siamo riusciti a fare centro. Non è mai troppo tardi per smettere di fumare. E grazie per essere stato con noi anche questa settimana. Torneremo a parlare di fumo, fumo e più giovani, perché purtroppo questa è un'altra piaga da non sottovalutare. Grazie al Dottor Paolo Cascavilla per essere stato con noi. Grazie a voi per averci seguito. Continuate a farlo perché la diretta prosegue come ogni giorno.